Ma in Italia è possibile punire qualcuno con la pena di morte magari per reati gravissimi? Allora, considera che il rapporto dell'Italia con la pena di morte nell'ultimo secolo e mezzo è stato altalenante. Prima viene abolita nel 1889, ripristinata in epoca fascista, abolita parzialmente con la caduta del fascismo e totalmente cancellata nel 1994 per tutte le tipologie di reato. Questo è dovuto anche al fatto che la Costituzione stabilisce che la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e la pena di morte, che si sia a favore o contro, è sicuramente contraria al senso di umanità. È il diritto penale. Che stè?